Buongiorno amiche, buongiorno amici, qua si sta aspettando che la nebbia si diradi Nebium, ma che nebium, ma che brutto, mi sa come ho scritto già che il berettone me lo metterò in testa prima ancora di lavarlo che mi dà fastidio sentirmi tutta umida di nebbia però un po' la nebbia mi piace quando sto in casa, non quando sto in giro allora invece di farvi vedere il cappello perché la luce non è buona ci godiamo di quella pessima adesso, non ho acceso il ring, non ho acceso niente stiamo guardando insieme il picci e questa cuffietta io sono innamorata delle cuffiette, ne hai mai fatte? No perché spesso non facciamo proprio le cose che ci piacciono di più anche se non sono poi particolarmente difficili di questa che cosa mi piace? Ma mi piace proprio tutto mi piace la forma, mi piace la stellina, quella raggera di aumenti e buchini sulla parte posteriore del cranio lì e mi piace il bordino, mi piace il light cord mi piace il motivo che è tipico di knitting for stiff sapete che il mio inglese è un Oxford proprio è carina, è proprio carina e su che cosa è posata non si sa, potrebbe essere una pecora potrebbe essere un mare in mano, una pelliccia da casa non si sa, uno scendiletto comunque la cuffietta mi piace devo pensare di realizzare un pensiero per il primo, per festeggiare il primo compleanno della bimba, della prima bimba, ne auguro tanti così imparo del mio allievo di uncinetto io ho un allievo storico di uncinetto e quindi siamo state invitate Camilla e Dio a partecipare a questa festa castellana a marzo, quindi mega tanto io poi che so così lenta nella produzione e come pensiero così stavo riflettendo qualcosa fatto da me ovviamente ma anche da Camilla magari ecco, le pezze di minu e quindi sto vagliando che facciamo? io ho un oggetto che faccio a tutte le bimbe che è il bolero il bolero che poi crescendo le bimbe possono utilizzare come collettone sciarpa mi piace e poi ci possono giocare anche con le bambole ma va avanti tanto l'importante è fare sufficientemente lunghe le maniche che si portano col risvolto e poi bellino un bel fioccone sotto al mento anche semplicemente come si dice quando si fa? Maria Vittoria aiuto quando non si completa un fiocco il mezzo fiocco come si chiama? non lo so comunque è carino è Roberto si chiama il babbo ama i colori è venuto a far lezione qui a Grotte anche prima che ci chiedessero tutti in casa perché voleva realizzare una sciarpa alla fidanzata con una farfana una sciarpa a croce lui è Roberto Croce nella mia rubrica come avevo raccontato tempo fa e quindi sì probabilmente farò quello o ne faccio addirittura due uno con un bel filato caldo caldo teporoso e uno magari un po' un po' così sottilino di lino un buon lino un vero lino vediamo 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 ma sì probabilmente faccio quello una cosa che rimane a lungo che si può godere poi sono carine le bambine mi piace tanto realizzare quell'oggetto veramente l'ho fatta a tutte le bimbe a tutte le bimbe che mi sono passate davanti le mie pro nipotine la bimbina la Benedetta l'ho fatta alla Diletta la mia vicina di casa la mia bimbina qua vicino la modella del berrettino e quindi lo facciamo anche a lo faremo facciamo a famo sto affusa oh sono stata sveglia sono stata sveglia alle 4 ore in giro con il cane e il gatto no vabbè lasciamo perdere adesso la minusta è in braccio perché dopo il mal di pancia di tutta la notte c'è gorgoglia capire perché oltretutto adesso vuole la mamma vuole stare in braccio si scalda la mamma a fare messaggio a un cane no ci pensate il mio cagnolino piccino è piccina la mia carina è tutta qua che vuole la mamma tutta la gomitolata oh santa cielo cerito lindo e quindi adesso avrò da riflettere mille cantieri aperti il cappello però ho da fare l'altro berretto l'altro con altri bei filati bello 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 e mo ci penso mo ci penso penso anche agli incontri che potremmo organizzare perché ho richiesto un po' da tutte le parti e devo cercare delle location che siano carine un posto non vale l'altro no dobbiamo stare bene dobbiamo stare in un posto bello abbastanza facile per molti può essere comodo per tutti per me per favore sì ecco che mi muovo solo con i mezzi pubblici un posto bello che sia carino che ci offrono cose buone per così le nostre pause poi faremo anche picniche merende al sacco e magari il tema potrebbe essere il sacco portiamo un sacco fatto da noi fatto come? ma fatto cucito cucito e ricamato incinettato infeltrito tricottato come vi pare il sacco noi che andiamo a spendere io no guardate no beate shopper di tag perché mi piacciono un sacco poi i sacchetti porta lavoro come le va chiamate possiamo chiamare i sacchi porta lavoro non lo so ecco ma che è ma sacco porta lavoro borsa porta lavoro se volete a Roma anche borsa ve lo concedo via borsa la borsa del lavoro dove è la borsa le ciabatte dove sono queste due cose mi fanno morire a mamma e scendi il cane allora organizzeremo queste cose torneremo a Viterbo ma ci sono tante location carine qua nei dintorni poi dice dalla bella stagione perché è una brutta dobbiamo stare a casa dobbiamo stare male quando è una brutta è una brutta poi magari quando diluvio fa la neve peccato però ecco ci sono tanti posti carini dove stare al calduccio magari guardando fuori dalle finestre bei paesaggi ben vestite non mica ci mancherà qualcosa da metterci addosso strati io sto uscendo altro che un mino michelin oh sono contenta sono contenta e quindi sicuramente faremo qualcosa a spezia presto il laboratorio il nido tessile il tema ah 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 lì si parla di bambini eh bambini piccoli al nido tessile ma ah 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 se sono buoni per i bambini che cosa io parlo di filati signori eh parlo di filati faremo vedere degli esempi ma c'è una grande necessità di ricominciare guardare io dico ricominciare ma c'è gente gente senza oh nulla non voglio offendere nessuno ma che non li guarda che non li ha mai guardati che li utilizza appunto e basta e tutto quello che gli viene detto va bene no non va bene non va bene abbiamo visto che non va bene soprattutto mortificando fibre nobili come ad esempio una tra tutte il lino quindi parleremo di filati di fibre fibre e filati perché le fibre non è che sono sempre amiche loro e basta dipende anche da come vengono utilizzate nei filati per bambini bambini piccoli bambini un po' più grandicelli bambini che vivono all'aria aperta perché la lana sì e l'acrilico un po' meno ecco parliamo di queste cose ma ci fai spendere un sacco di soldi no perché possiamo anche usufruire di tante di quelle offerte periodiche che ci capitano innanzi ecco perché se mi state ascoltando ecco sapete siete in grado come me di cercarle queste promozioni e poi ve ne parlo come ho già fatto a tempo fa e poi se siete qua come me se mi ascoltate anche quando promuovo tipo il sencia che non lo so se l'hanno risolto quel problema di quella diga poco chiara ma siccome riguarda scusate starante la costruzione e a quel punto lì ci si arriva avendo già affrontato una cosa che basta usare il cervello la questione è che molte persone non sono più abituate ad usare la ragione la logica ad affrontare le piccole questioni poi certo che le cose devono essere fatte al meglio ma lì ad esempio è una questione di traduzione che colpa ne ha a chi ha delegato ecco tutto sta comportarsi in una maniera ecco ma se io promuovo un qualcosa qua e mi si ascolta qua se uno sa che una cosa potrebbe avere un problema e io do la mia disponibilità a chi non ci arriva ma mi deve dimostrare di aver comprato il pattern perché a pagamento non vado a regalare il pattern altrui ecco se uno mi ascolta sa che può contare sul mio aiuto e quindi c'ha poco da lamentarsi se se lo compra se se lo compra e non vuoi chiedermi aiuto taci i suoi si arraggia e se lo risolve come ho fatto io ho tempo due secondi guarda non mi tornava poi dico ma cosa deve avvenire in questo momento come deve crescere questo pezzo com'è questa frase fatta malissimo e si risolve ma non ce la facciamo lavoriamo stiamo indecisi ci sembra che possa andare bene così invece ci sentiamo insicuri va bene perfetto vi aiuto vi aiuto su instagram andate scrivete scrivetemi privato ho comprato il sencia me lo fate vedere che avete comprato il sencia e io vi dico guarda quella cosa lì e ti aiuto anche a ragionare amica o amico ti aiuto prima di dirti di darti la soluzione ti ci faccio arrivare ragionando questo ti aiuterà anche per affrontare in una maniera più presente più cosciente ma io non voglio pensare a niente però ti tocca ogni tanto pensare io poi che sono cresciuta come tante con gli spiegoni ammazzalo degli errori che trovavamo negli spiegoni scritti fitti e dove una virgola e un punto virgola facevano la differenza dei disastri ecco quando non c'erano neanche tanti schemi in giro io mi trovo benissimo lo schema uno schema uno schizzo un disegno delle frecce degli asterisco e asterischi si dice degli asterischi quella roba l'avete capito no? la stellina famosa si capisce si capisce meglio quello che deve accadere e se capiamo diventiamo padroni maggiormente di quello che andremo o avremo fatto e questo ci potrà aiutare anche nel nel ben impiegare quell'investimento creando delle nostre versioni e quella è una parte del bello capisco che possa non esserlo per tutti quello di improvvisare di modificare di avventurarsi ecco però serve ragionare serve altrimenti diventa pericoloso quello di assorbire di di non soffermarsi sulle incongruenze su su le cose che va bene e allora ci sarà questo incontro all'aspezza organizzeremo periodici incontri anche a Roma e periodici incontri a Viterbo periodici incontri a Grotta e Santa Stefano periodici incontri qua e là incontri temporanei fra 15 giorni potremmo trovarci là io mi organizzo non sono corsi metto sempre del mio ma non è che si arriva io non capisco questo me lo insegni io ho comprato questo me lo fai non si può così quelle sono lezioni le possiamo anche affrontare tante cose online a distanza poi posso seguire ma i corsi sono una cosa i NIT CAFE sono un'altra una partecipazione di tutte dei nostri entusiasmi anche delle nostre come si dice aspetta delle nostre dei nostri disastri ecco condividere i disastri e ragionare insieme insieme ecco è bello è stato bellissimo venerdì con le sciure a grotte è stato proprio bello quel pomeriggio è bello quando mi incontro ora con Aleandra ora con Grazia capita che ci si incontri così di qua o di là e condividere questa passione bene quindi vi terrò informati pubblicherò dei post qua su Youtube pubblicherò dei post e le ocandine su Instagram su Facebook non ho voglia di riaprirmi un account perché mi era un riposto devo fare tutta un'altra fila che per carità di Dio non ce n'ho proprio voglia e quindi io penso che questi due social tanto è sempre tutto un ripetersi di soliti contenuti ma abbiamo davvero tutto scegliamone due tre io non so come fanno veramente come se fa seguirmi le social come se fa bisogna sempre inventarsene una nuova e parlare più o meno delle cose sono quelle e io mi fermo qua abbiate pietà mi fermo qua Youtube e Instagram anche perché lì mi aiuta mia figlia io passo i contenuti e lei pubblica poi invece per quanto riguarda la posta me ne occupo direttamente io Camilla non apre niente quindi le vostre confidenze le vostre cose le so solo io va bene e vabbè confidenze dico insomma abbiate pietade perché il tempo di ognuno è quello che è mi piacerebbe dedicare tanto tempo a tante persone ma ieri mi sono dedicata qua in paese e non sapevo sono arrivata la sera fulminata anche preoccupata perché quando vedo le mie amiche grandi che non stanno bene mi preoccupo ecco e diciamo che questo non è un bel periodo anche se ieri è stata anche divertente ho riso un po' qua e là ho chiacchierato anche amabilmente però anche corso ho dato una mano perché ce n'era bisogno quindi sì faremo degli incontri quella vediamo vediamo spezza per fortuna ho un punto d'appoggio ho due punti d'appoggio due sorelle e quindi in città poi mio padre sta fuori siamo tutti sparpagliati diciamo ma le più comode sono le sorelle le due sorelle che cittadine gli altri parenti intorno stanno in zone un po' così potrei anche riorganizzarlo in valdivara perché no perché là ho la mia cuginona ecco vediamo vediamo quello che accade come mi potrò spostare di qua innanzi insomma va bene sono contenta sono contenta che vi possa far piacere a molti a me tantissimo perché gli scambi ci fanno crescere scopriamo cose ho scoperto filati ho scoperto tanto perché è bello insomma ascoltare anche gli altri e insieme fare dei passi insomma di guardare insieme le cose che abbiamo fatto è bello questa cosa è bella va bene vi terrò informati e anche il berretto lo sto guardando fuori sì c'è un po' più di luce ma nebbia che ve lo dico a fare porterò come il berretto magari lo fotografo a Viterbo e magari ve lo chiacchierò a Viterbo ecco vi porto del filato vi farò vedere com'è quel punto che lo trovo interessante è un punto che si mette bene in evidenza quel punto quel motivo non tanto il punto quel motivo si mette bene in evidenza lavorando in tondo ma si può fare in linea sì però cambia e vi spiego dove perché se poi vi va comunque fatevelo anche lavorando dritto dritto a pannelli insomma ma in tondo lui si sviluppa proprio bene e soprattutto utilizzando filati che creano un po' di ombra e di contrasti parleremo anche di colore ne parliamo sempre va bene vado a fare le frittelle vado a fare le castagnole perché non mi ricordavo che oggi era giovedì avevo promesso un dolce trovo le castagnole il fritto vabbè ma oggi è giovedì grasso e allora porterò le castagnole porterò le castagnole farò le castagnole vado vado mollo la minuscola le undici e mezza è già tardi la minuscola si deve rassegnare sta nelle sue cucette e sceglierà la preferita ne ha due qua una in una stanza e una in un'altra la mia bimba quindi vi lascio con questa cuffietta vi faccio vedere di chi è vediamo se mette a fuoco non mette a fuoco metti a fuoco non metti a fuoco oh mannaggia ecco ancora un po' vi auguro un buon tutto e ci risentiremo probabilmente in giornata ciao